Carlo Acutis sarà proclamato santo durante il giubileo, come annunciato da Papa Francesco durante il concistoro ordinario pubblico del 30 giugno 2024. Lo studente lombardo, morto a soli 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia fulminante, è diventato un simbolo per molti giovani ed è stato definito il patrono di Internet. Acutis è stato beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi, dove la sua vita e fede sono state celebrate come un segno di speranza e ispirazione per chi affronta sfide personali e cerca conforto spirituale. Durante le beatificazioni è stato sottolineato come la sua devozione e il suo esempio possano guidare le nuove generazioni nel loro percorso di fede. La sua canonizzazione è vista come un riconoscimento del suo impegno nel diffondere il messaggio cristiano attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, dimostrando come la tecnologia possa essere un veicolo per la spiritualità e il bene comune. La proclamazione santo di Carlo Acutis durante il Giubileo sarà un momento significativo per la Chiesa e per tutti coloro che vedono in lui un modello di virtù e devozione.